C'è un'emergenza, seguitemi Mannaggia, si è già rotto l'ascensore No, 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 l'ascensore funziona benissimo, è Poldo che funziona male Prendo la mazza Poldo, cosa sta succedendo? È stato colpito da un fulmine, per caso? Oddio, può essere Sto cercando di farlo ricolpire da un altro fulmine, ma continuano a sbagliare i paletti Ah, ci penso io Maresciallo, ci pensi lei Vada, fixiamo Poldo, ragazzo Fuoco! Forse devo tirargliene un'altra Veda, veda, prova, veda lei Ce l'ha con me, ce l'ha con me, mi sta menando È un robot capitalista Penso abbia funzionato Dice, guarda che lo faccio anche prima È il Poldo normale che tutti riconosciamo